L'Imena, imponente sequestro di pezzi d'antiquariato sabato notte durante un controllo stradale vicino al Cronplase, i carabinieri hanno fermato una 500 con a bordo padre e figlio romani. All'interno della macchina i militari si sono accorti che era stipato un ingento e quantitativo di merce pregiata. Quadri, statue e cornici, una bibbia dell'Ottocento, tutto materiale pronto per essere piazzato molto probabilmente al mercato dell'antiquariato di Piazzola sul Brenta, che si svolge come di consueto ogni ultima domenica del mese. Si tratta di oggetti per un valore che si aggira intorno ai 50.000 euro e che sono stati sequestrati. I due non hanno fornito certificati di provenienza e per questo sono stati denunciati per ricettazione.